GF VIP7, Alberto De Pisis spiega perché lui Nikita Pelizzon ha vinto il reality. Alberto De Pisis ha raggiunto un traguardo importante, al grande fratello VIP7, il terzo posto prima di Oriana Marzoli e della vincitrice Nikita Pelizzon. A casa chi, il dippone ha raccontato le sue sensazioni a caldo una volta tornato a casa, rivelando la prima persona a cui ha telefonato appena avuto occasione. A detta sua, la friulana ha potuto portarsi a casa la vittoria grazie alle vibrazioni positive, mostrate dall'inizio fino alla fine del suo percorso. Alberto ha poi riassunto così il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, inizialmente molto molto vicino a lui. Tra i legami più importanti però, ha voluto menzionare quello con Oriana Marzoli, che ha definito un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i battibecchi. Infine, ha fatto un bilancio della sua situazione sentimentale. Tra l'amore e la fama, ad oggi, preferirebbe trovare l'amore. Grazie. 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 Grazie.